E questi sono 5 momenti assurdi ripresi da una videocamera, comunque anche in questo video avrete la possibilità di vincere uno spinner, per vincerlo dovete lasciare un like e condividere questo video, iscrivervi al canale e infine commentare con partecipo. In ogni caso tutte le regole in descrizione, adesso direi di incominciare subito con il video. In quinta posizione troviamo un sub che mentre stava sott'acqua per un pelo non ha rischiato di morire, infatti mentre lui stava sott'acqua all'improvviso passa una barca a pochi centimetri sopra di lui. Vediamo subito questo momento. In questa clip troviamo un pescatore che mentre stava sott'acqua all'incontro era avvicinato con uno squalo e per qualche secondo questo rimane bloccato perché il suo arpione si intreccia con un filo, vediamo subito. In terza posizione invece troviamo un gruppo di ragazzi che decidono di avventurarsi in una grotta in cui passa anche il treno, sfortunatamente però per loro il treno passa proprio in quel momento, quindi i ragazzi sono costretti a scappare dalla grotta, anche perché se fossero rimasti lì dentro sarebbero morti, vediamo. In questo clip abbiamo come protagonista un ragazzo in bici che all'improvviso incontra un orso e scappa, vediamo subito. In prima posizione troviamo un ragazzo su una motoslitta che decide di fermarsi, però all'improvviso davvero a pochi millimetri da lui cade un gruzzolo di neve e quindi si è salvato davvero per poco, vediamo la clip. Ciao! Ciao!